ciao fragoline e ciao fragolini allora nuovo video dei grattivinci volevo metterlo a novembre questo video però poi ho deciso di metterlo a dicembre così almeno vedete due video di grattivinci poi da gennaio credo che recupererò un bel po di questi video perché vedo che molte persone piacciono e allora ho deciso di metterne di più sempre non spendendo molto giustamente poi l'ultima cosa vi devo dire e poi vediamo se abbiamo vinto molte persone che non mi seguono e che guardano solo questi video per cinque minuti poi se ne vanno mi hanno detto come mai gratto sotto praticamente qua sotto allora io l'avevo già spiegato negli altri video se voi non mi seguite e seguite solo un video tanto per essere curioso a vedere se ho vinto non ha senso perché se a me piacciono i video mi piace questo genere dei video di grattivinci prendo e li guardo tutti e seguo ovviamente questa persona sul canale non che prendo un video del suo canale perché sono curiosa e guardo ovviamente solo un video e poi sparisco perché non ha senso per cui l'ho detto un bel po di volte anche sugli altri video io gratto prima sotto per vedere se ho vinto e se non ho vinto per metterlo poi nel video nel titolo del sul canale in poche parole se io ho tanti grattivinci che ne sono cinque grattivinci due ho vinto e gli altri no ovviamente li divido e dico ok allora su questo ho vinto lo metto lì sull'altro grattivinci che non ho vinto lo metto dall'altra parte per cui vuol dire che questo vincente questo perdente lo metto insieme gli altri due che sono perdenti ad esempio mi metto con i perdenti faccio un po un po vincente e perdente insieme perché così almeno ho più diciamo persone che guardano il video poi non ho capito perché vi dà così tanto fastidio diciamo che io gratto sotto sinceramente non ho capito per cui questo è un misterio di uno non può fare quello che vuole perché io non posso grattare sotto per vedere se ho vinto o non ho vinto e dividere il video c'è che si lancia un po di ferio vabbè capire per cui detto questo che spero che mi sono diciamo ho detto spero che avete capito in poche parole perché se no sono cavoli vostri io vado avanti a fare questi video io vado avanti a grattare il coso poi c'è quella volta che non lo gratto perché voglio essere curiosa di sapere e c'è quella volta che lo gratto e dico vabbè lo voglio grattare stop lì punto tutto allora questa volta ho preso la star che è dai 5 euro anche se era meglio che prendevo e poi questo bonus 7 e mezzo un euro poi mi avete chiesto ma va che ci sono solo questi di 7 di un euro non ce ne sono altri no se avete visto l'altro video ho fatto vedere ovviamente quanti di 7 e mezzo ci sono e con quale prezzi se sono da 3 euro da 2 euro comunque sono diversi cambiano non è che ci sono solo questi in poche parole almeno da me è diverso da voi non lo so può essere che ancora da voi non è uscito il grattevinci può essere che certe volte che ne so a Roma esce il grattevinci di Natale invece qua ancora non è uscito ad esempio per farvi capire no perché non è che escono sempre tutti così in un paese all'altro appunto quello da 50 centesimi io da un bel po' che stavo cercando cercando questi grattevinci e alla fine non li ho trovati dopo un bel po' sono usciti dove abito io e alla fine li ho presi ma dopo un bel po' non è che sono usciti insieme dopo quando l'ho visti che una ragazza ha grattato coi grattevinci sul video e allora ho detto cavolo però qua da me non c'è questo è per cui detto questo che ho parlato anche troppo andiamo a vedere se ho vinto e come sarà questo diciamo Natale allora arriveranno anche i grattevinci di Natale per cui prenderò anche quelli intanto per adesso vedete questo video perché ci saranno i grattevinci ma ci saranno anche i vlogmas per cui vedete sia uno che l'altro ovviamente solo due video di grattevinci in questo mese di dicembre detto questo andiamo a vedere e andiamo a grattare buona visione allora iniziamo a grattare quello piccolino allora le mie carte facciamo un po' di zoom così lo vedete questo è uno regina e uno per cui due e mezzo allora vediamo sopra e due e qua e tre bene invece sotto c'è sotto carta bonus vediamo qua è praticamente tre per cui niente ovviamente sotto è 700 euro e il bonus invece il bonus 10 in poche parole in questa carta cioè in questo grattevinci non abbiamo vinto niente ovviamente perché qua direi proprio niente la carta per 20 proviamo questa facciamo così numeri vencenti sono 39 16 43 e 22 questi sono i numeri che dobbiamo trovare allora qui abbiamo un 35 che non ce l'abbiamo abbiamo 11 non ce l'abbiamo 27 27 non c'è 29 non c'è 30 neanche 41 abbiamo il 43 25 c'è il 24 40 niente 42 no il 31 non ce l'abbiamo il 20 abbiamo il 22 e per finire il 32 ma abbiamo il 33 invece qua era il bonus che trovi i simboli abbiamo un megafono un lingotto un diamante le monete e la sedia niente ok direi che questo è perdente per cui tutti e due sono perdenti perché non abbiamo trovato i numeri e neanche i simboli giusti ok allora questa volta ci è andata male ma l'altra volta ovviamente abbiamo vinto 18 euro per cui non è che ci può andare sempre bene però chi se ne frega l'importante è divertirci per cui nel prossimo video ci sarà il video quello cioè prenderò il grattevinci di Natale per cui credo che prima di Natale vedete il video di grattevinci sperando di trovarlo perché di solito qui da me ogni tanto non riesco neanche a trovare quello che cerco comunque la prossima volta invece di prendere quello da 5 euro e ovviamente solo un biglietto preferisco prendere che ne so un biglietto da un euro così almeno spendo 5 euro con tutti i biglietti piccolini che prendere uno così grosso perché la maggior parte spendere 5 euro così diciamo che sono cioè non vinci quasi mai per cui preferisco appunto prendere un biglietto da un euro tipo questo e forse vinci almeno 2 euro 3 euro cioè li ricuperi per poi prendere altri grattevinci per cui niente anche se era nuovo pensavo almeno comunque bello lo potrei ricomprare dato che è carino come grattevinci e niente questo qua cercherò di non comprarlo solo che avevo 6 euro ho detto vabbè un euro mi rimane cosa faccio e allora alla fine ho preso questo qua però chi se ne frega vabbè spero che questo video lo stesso vi sia piaciuto noi ci vediamo al prossimo video e mi raccomando se non siete ancora iscritti al canale iscrivetevi se volete qualche spoiler dei grattevinci nuovi che ovviamente metto prima su instagram seguitemi sul mio instagram che poi lì c'è sempre tutto anche elettronica vi faccio vedere le cose elettroniche che compro recensione tutte queste cose qui e niente detto questo noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao